Narsete, un unuco guerriero. Narsete, nato in Armenia nel 478 d.C., fu un generale unuco che servì l'impero bizantino sotto l'imperatore Giustiniano I. La sua scesa al potere è avvolta nel mistero, ma le sue abilità militari e il suo acume politico lo resero uno dei personaggi più influenti del VI secolo. Unuco e consigliere, Narsete divenne unuco in giovane età, presumibilmente per sfuggire alla schiavitù o per entrare a far parte del servizio imperiale a Costantinopoli. La sua intelligenza e il suo talento lo portarono all'attenzione di Giustiniano, che lo nominò cubiculario, una posizione di grande fiducia all'interno del palazzo imperiale. Narsete divenne presto consigliere fidato dell'imperatore, consigliandolo su questioni militari e politiche. Le guerre contro i persiani, la prima grande prova di Narsete arrivò nel 541 d.C., quando fu nominato comandante in capo dell'esercito romano d'Oriente contro l'impero persiano. In una serie di brillanti campagne militari, Narsete sconfisse i persiani, ponendo fine a una guerra decennale riaffermando la supremazia bizantina in Oriente. La conquista dell'Italia, nel 552 d.C., Giustiniano richiamò Narsete dall'Oriente per affidargli il comando della guerra contro i Goti in Italia. I Goti, sotto la guida del loro re Totila, avevano conquistato gran parte della penisola italiana e minacciavano la stessa Costantinopoli. Narsete dimostrò ancora una volta la sua abilità militare, sconfiggendo Totila nella battaglia di Tagine nel 552 d.C. e completando la conquista dell'Italia nel 555 d.C. L'Italia tornò sotto il controllo imperiale dopo quasi due decenni di dominio Goto. Governatore d'Italia, dopo la conquista, Narsete rimase in Italia come governatore per quasi 15 anni. Durante questo periodo, si dedicò alla ricostruzione della penisola, restaurando le infrastrutture, riformando l'amministrazione e promuovendo la prosperità economica. Eredità, Narsete morì a Roma nel 573 d.C., all'età di circa 95 anni. La sua figura rimane controversa, alcuni lo considerano un eroe che salvò l'impero bizantino, altri lo accusano di aver contribuito alla sua decadenza. Nonostante le controversie, Narsete rimane una figura fondamentale nella storia del VI secolo. Le sue abilità militari e il suo acume politico lo resero uno dei personaggi più influenti del suo tempo, e il suo ruolo nella conquista dell'Italia e nella ricostruzione della penisola ha lasciato un segno indelebile, nella storia.